Voglio cominciare da Marco Travaglio. Voi siete probabilmente il solo giornale che, lungi dalla vera ostilità, esprime una simpatia per il movimento di Grillo e non solo e non tanto adesso durante la campagna elettorale, ma in tutta la genesi dell'operazione di questo movimento, che poi vedremo Beppe Grillo non chiama già più movimento, ma questo è un discorso che faremo dopo. Quali sono le potenzialità positive di Grillo e del Movimento 5 Stelle dal punto di vista di Marco Travaglio? Guarda, il nostro giornale ha ospitato critiche feroci a Grillo quando ha commesso degli errori, anche pesanti, anche gravi. Naturalmente il nostro è un giornale che ha delle posizioni alle quali ogni tanto, anzi spesso, Grillo si avvicina per le cose che dice. Quando dice delle cose che si avvicinano a noi, noi ovviamente non possiamo che felicitarcene, esattamente come quando qualunque altro politico sposa battaglie che ci sono care. Certamente gli aspetti positivi sono quelli di aver iniziato a cambiare la politica prima ancora di entrare in Parlamento. Io ricordo quando mi invitò sul palco del V-Day, era l'8 settembre del 2007, se non ricordo male, in Piazza Maggiore a Bologna, e si raccoglievano le firme per tre leggi di iniziativa popolare, contro i candidati in lista, per un massimo di due legislature, dopodiché i parlamentari a casa e per altre battaglie contro la legge Gasparri, contro i finanziamenti pubblici ai giornali, per cambiare la legge elettorale, per cambiare la legge elettorale. Io ricordo la reazione di tutta la stampa italiana, il fatto non esisteva ancora nel 2007, che lo investirono di una raffica di insulti, populista, antipolitico, fascista, qualunquista, giustizialista, giacobino, perché leggeva i nomi dei condannati in Parlamento. Adesso abbiamo sentito persino Berlusconi dire che avrebbe fatto le viste pulite, naturalmente non le ha fatte, ma il fatto stesso che abbia usato quello slogan insieme a tutti gli altri che si sono posti questo problema, e poi naturalmente c'è chi ha anche obbedito a quella regola che diceva di essersi data e chi non ha obbedito, però il fatto che tutti si siano posti questo problema è perché la goccia ha scavato la pietra, ed è grazie alla battaglia di Grillo, ma soprattutto a tutti i ragazzi che poi sul territorio hanno portato avanti queste cose, hanno raccolto le firme, hanno portato in Parlamento il risultato di queste raccolte di firme. Il Parlamento è rimasto sordo dal 2007 al 2013, sei anni, e oggi si meravigliano perché Grillo è tra il 15 e il 18%. Forse se ci pensavano prima Grillo non sarebbe nemmeno entrato in politica, ne ha fatti di passaggi prima di decidere di entrare in politica, ha cercato di far approvare leggi di iniziativa popolare, ha cercato di fare dei referendum, ha cercato di candidarsi alle primarie del PD ed è stato respinto, ha cercato di contaminare i partiti e di convincerli a prendere il suo programma e a farlo proprio. Nessuno lo ha fatto e alla fine lo stanno facendo quelli del Movimento 5 Stelle con tutti i loro pregi e con tutti i loro difetti di cui credo che questa sera parleremo e che nessuno di noi intende nascondere, né nel positivo né nel negativo, ma Grillo è il risultato di questo ceto politico infame che ha pensato di sfangarla un'altra volta e di esorcizzare non quello che stava sul palco ma tutti quelli che stavano sotto il palco e che si sono moltiplicati così con delle parole d'ordine, delle scomuniche che poi alla fine hanno semplicemente moltiplicato il consenso di questo Movimento. Grazie. Grazie. Grazie.